Una strategia di investimento a lungo termine prevede la detenzione di investimenti per diversi anni. Questa strategia include la detenzione di attività come ad esempio obbligazioni, azioni, ETF, tutti gli asset che fanno parte della strategia di chi va ad investire. Gli individui che adottano un approccio a lungo termine hanno bisogno di due cose disciplina e pazienza. Questo perché gli investitori devono essere sempre in grado di assumersi una certa quantità di rischio e di volatilità mentre aspettano guadagni molto più importanti durante il percorso. Molti esperti del mercato consigliano di detenere azioni a lungo termine. L'S&P 500 ha subito perdite solo in 11 anni dei 47 che vanno dal 1975 al 2022 rendendo i mercati e rendimenti del mercato azionario piuttosto volatili in periodi di tempo più brevi. Tuttavia gli investitori hanno storicamente registrato un contesto di successo molto più elevato nel lungo termine. In un contesto di tassi di interesse bassi gli investitori potrebbero essere tentati di dilettarsi in azioni per aumentare i propri rendimenti a breve termine ma ha più senso e paga di più con rendimenti complessivi più elevati mantenere le detenzioni a lungo termine. Oggi ti dico se effettivamente valga la pena e se effettivamente ci siano solo vantaggi nell'investire nel lungo termine ma solo dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio. Io come sempre sono Pasquale il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario IEF ed autore del libro da meno 35.000 in 18 mesi. Col termine Asset Class ci si va a riferire a una specifica categoria di investimento. Condividono le stesse caratteristiche e qualità come le attività al reddito fisso, le obbligazioni o le azioni. Le Asset Class da possedere sono dipendenti dai tuoi fattori di investimento tra cui sono ad esempio l'età, il profilo di rischio, la tolleranza, gli obiettivi di investimento e la quantità di capitale che hai a disposizione. Ma quale classi di attività sono le migliori per investire a lungo termine? Se osserviamo diversi decenni di rendimenti delle classi di attività, le Asset Class, scopriamo che le azioni hanno generalmente sovraperformato quasi tutte le altre Asset Class. L'SB500 ha restituito una media dell'11,82% all'anno tra il 1928 e il 2021. Ciò si confronta favorevolmente con il rendimento del 3,36% dei buoni del tesoro a 3 mesi e del 5,11% dei buoni del tesoro a 10 anni. Ovviamente qui parlo di obbligazioni del tesoro americane visto che ho parlato poco fa delle S&P500. I mercati emergenti hanno alcuni dei più alti potenziali di rendimento dei mercati azionali ma comportano anche un rischio correlato più alto. Quest'Asset Class ha storicamente ottenuto rendimenti medi annuali elevati ma le fluttuazioni a breve termine hanno influito sulle loro performance. Ad esempio il rendimento annualizzato a 10 anni dell'indice MSCI Emerging Markets era del 2,89% alle 29 aprile del 2022. Anche le Small e Large Gap hanno prodotto rendimenti superiore alla media. Ad esempio il rendimento a 10 anni dell'indice Russell 2000 che misura le performance di 2.000 piccole società americane è stato del 10-15%. Inoltre ad esempio l'indice Russell 1000 a grande capitalizzazione ha registrato un rendimento medio del 13-57% negli ultimi 10 anni a concludersi il 3 maggio del 2022. Le azioni sono considerate investimenti a lungo termine. Ciò è in parte dovuto al fatto che non è insolito che le azioni scendano dal 10% al 20% o di più in valore in un periodo di tempo relativamente breve. Guardate quello che sta accadendo da inizio anno nel 2022. Gli investitori hanno però l'opportunità di superare alcuni di questi alti e bassi in un periodo di molti anni o addirittura decenni per generare un migliore rendimento a lungo termine. Guardando indietro ai rendimenti dei mercati nazionali degli ultimi 20 anni le persone raramente hanno perso denaro investendo per esempio nelle S&P 500 in un periodo che va ad essere di 20 anni almeno. Anche considerando le battute dell'arresto come la grande depressione, il 29, il back Monday, la bolla tecnologica degli anni 2000 o la crisi finanziaria del 2008 gli investitori avrebbero registrato guadagni se avessero investito ed tenuto quell'investimento in interrotto per almeno 20 anni. Sebbene i risultati passati non siano una garanzia dei rendimenti futuri, questo suggerisce che l'investimento a lungo termine in azioni generalmente va a produrre dei risultati positivi se viene concesso abbastanza tempo a loro di lavorare. La problematica non è tanto il mercato, ma siamo noi. Vi ricordate il video che ho fatto settimana scorsa sui bias dell'investitore? Ma io ve lo lascio qui da qualche parte. E infatti ammettiamolo, non siamo calmi e razionali come affermiamo di essere. In effetti uno dei difetti della nostra personalità, del comportamento degli investitori è la tendenza ad essere emotivi. Molte persone affermano di essere investitori a lungo termine fino a quando il mercato azionale non inizia a scendere, quando tendono a ritirare i propri soldi per evitare ulteriori perdite. Molti investitori non riescono a rimanere investiti in azioni quando si verifica un rimbalzo. In effetti tendono a rientrare solo quando la maggior parte dei guadagni è stata già raggiunta. Questo tipo di comportamento errato, compra alto e ventibasso tende a paralizzare i rendimenti di ogni investitore. Secondo lo studio di Quantitative Analysis of Investor Behavior di Dalbar, l'SMP500 ha registrato un rendimento medio anno di poco superato al 6% durante il periodo di 20 anni terminato il 31 dicembre del 2019. Nello stesso arco di tempo l'investitore medio ha registrato un rendimento medio anno del 2,5% e più il nostro capitale cresce, maggiore questo effetto sarà amplificato. Ci sono moltissimi motivi e bias che danno questo risultato e ne volevo citare alcuni. Numero 1, gli investitori hanno paura del rimpianto. Le persone spesso non riescono a fidarsi del proprio giudizio e seguono invece il clamore, specialmente quando i mercati scendono. Le persone tendono a cadere nella trappola che si pentiranno di mantenere le azioni e perderanno molti più soldi perché vanno a perdere valore e quindi finiscono per venderle, per placare quella sensazione di paura. Un secondo aspetto è un senso di pessimismo quando le cose cambiano. L'ottimismo prevale durante i rialzi del mercato, ma è vero il contrario, quando le cose vanno male. Il mercato potrebbe subire fruttuazioni a causa di shock a sorpresa a breve termine, come quelli legati all'economia ad esempio. Ma è importante ricordare che questi sconvolgimenti sono spesso di breve durata e molto probabilmente le cose cambieranno. Almeno si spera, se no sono altri problemi. Infine, gli investitori che prestano troppa attenzione al mercato azionario tendono ad ostacolare le loro possibilità di successo cercando di cronometrare, facendo il cosiddetto timing, il mercato troppo frequentemente. Una semplice strategia di acquisto e mantenimento a lungo termine avrebbe prodotto risultati di gran lunga migliori. Non bisogna guardare il portafoglio ogni 5 minuti, quello è uno degli errori che tutti fanno. Uno dei principali vantaggi di un approccio di investimento a lungo termine è il denaro, proprio quello che si vuole ottenere in principio. Mantenere le tue azioni nel tuo portafoglio più a lungo è più conveniente rispetto a un normale acquisto e vendita perché più a lungo mantieni i tuoi investimenti, meno commissioni devi pagare e soprattutto meno tasse perché queste sono rimandate a molto più in là nel tempo. All'irà del fatto che il tuo regime sia amministrato o dichiarativo col tuo broker, a un certo punto si dovranno pagare le tasse. Oggi se sei in amministrato è in solo l'anno prossimo se sei in dichiarativo. La magia di interesse composto svanisce così nel nulla ed in più ogni operazione può avere delle commissioni più o meno alte in base al broker che vai a utilizzare. Fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi e se tu sei un investitore a lungo termine o se sei invece un trader assiduo. Se questo video è stato di tuo gradimento ti chiedo per cortesia di supportarmi veramente poco con poco lasciandomi il pollice in su per farmi crescere sulla piattaforma. Lo fai per me e per l'agoritmo di YouTube. A te costa un attimo ma per me significa tantissimo. Se poi sei nuovo su questo canale ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo e se vuoi puoi sostenermi al costo di un caffè al mese qui su YouTube o su Patreon per contenuti dedicati. Bene anche per oggi è tutto e non mi resta solo che salutarti e arrivederci a domani per un nuovissimo video. Ciao!